Siamo Rosella e Maurizio, i tagliai di Ville Montetiffi. Da 20 anni impastiamo e diamo forma a testo, che è fatto dalla nostra terra. La terra che cuoce il nostro pane, la piada. Farci il pane è una forma di autoproduzione, che per noi è la vera rivoluzione. Il nostro è un laboratorio aperto, anzi è una casa laboratorio di fatto. Si può assistere alle varie fasi di produzione, visitare i locali dove produciamo, il riciccatoio, il forno. Insomma, quello che serve alla realizzazione di questo manufatto. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!